In occasione della campagna di prevenzione per il cancro al seno, la fotografa Ornella Foglia ha realizzato un'iniziativa coinvolgendo tante donne, ognuna con le proprie caratteristiche, ma con un obiettivo in comune, sensibilizzare alla prevenzione. Giochiamo d'anticipo è la frase chiave che ritrai la determinazione di queste donne, le quali invitano a riflettere sull'importanza dello screening e delle visite di controllo. Tutto nasce da un dolore, dichiara Ornella Foglia, un bisogno di ricominciare, filtro con gli occhi, trattengo con un obiettivo, tocco col cuore le emozioni di ognuna di loro. Tutte diverse, tutte uguali, sono loro, siamo noi, il distintivo e la propria ragione di vita, lo scopo quotidiano, la marcia da ingranare e quella utile a ripartire. Morbide, discrete, coraggiose, spaventate, tenaci, forti, bellissime tutte, le donne. Stefania e Annabella sono le vere combattenti, sottolinea Ornella, le vere coraggiose perché noi siamo state tutte coraggiosi a spogliarci per la causa, ma loro non avevano nemmeno la protezione di un oggetto riguardante la loro attività lavorativa. Loro si sono mostrate veramente a nudo e con le cicatrici. Stefania mi ha detto, più forte è la mia immagine e più si capisce che bisogna fare prevenzione. Le due combattenti, conclude, le ho lasciate a colori perché noi siamo rappresentate da un oggetto che riguarda il nostro lavoro. La prima cosa che ci viene chiesto è, di cosa ti occupi e cosa fai. Sembra quasi che il cosa fai si traduca in chi sei. La donna che affronta questa malattia in qualche modo perde questa identità, diventa colei che ha combattuto o che continua a combattere questo male, che non finisce mai perché anche quando credi di esserne uscita devi stare sempre sotto controllo, quindi è una battaglia continua. Donne bellissime, coraggiose, pronte per una buona causa, disposte a mostrarsi non più fragili ma combattenti, tutte in modo speciale. Sono le parole di chi attraverso alcuni scatti è riuscita a mostrare al di là della bellezza esteriore si nascondano storie, vissuti, cicatrici, lanciando un messaggio ben preciso. La prevenzione è vita.